Nuovo anno, vecchi problemi, lettera di fuoco al sindaco Pavana su San Lazzaro, cittadini non rispettati. La denuncia di un telespettatore per una mostra inaccessibile a chi si trova su una sedia a rotelle. Bassano presa d'assalto dai turisti in arrivo anche dall'estero per una visita al Ponte Vecchio. Vandali scatenati a Capodanno, attezze sul Brenta, petardo devasta la statua di San Giuseppe. Botti in centro anche a Belvedere, distrutto un tavolino in vetro fuori da un locale. Tre maschietti primi nati del 2023 a Bassano, Asiago e Sant'Orso dati sulla natalità in crescita. Il nuovo anno porta in dote la battaglia sul cibo sintetico e Gio Formaggio lancia un appello. Due parapendisti recuperati sul Monte Grappa erano caduti tra gli alberi del bosco. Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Maria Angela Sarto, l'anziana massacrata in casa. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Tg Bassano. Lo avete sentito dai nostri titoli, partiamo dalla politica cittadina e da una lettera aperta di Aria, l'associazione bassanese, rivolta alla sindaca Elena Pavan. Oggetto è il caso di San Lazzaro, nel testo sono tanti gli affondi nei confronti dell'amministrazione. Buonasera sindaco, con questa lettera intendiamo farle sapere che anche noi di Aria Bassanese siamo molto dispiaciuti per le sue dichiarazioni rilasciate a un noto quotidiano locale. Inizia così la lettera aperta, proprio come la ferita sul caso San Lazzaro, scritta dall'associazione e indirizzata alla prima cittadina di Bassano, Elena Pavan. Un foglio bianco su cui tradizionalmente a inizio anno molti tendono a scrivere i buoni propositi. Qui invece l'inchiostro della penna è intinto di rabbia, delusione e amarezza. Eh sì, perché fanno ancora male le dichiarazioni nelle quali chi governa Bassano ha detto che quei terreni sono in un luogo infelice e che non c'è stato il tempo di organizzare un dibattito della città su San Lazzaro. Ecco, nella lettera a Elena Pavan si parte proprio da qui, dall'accusa di Aria di una totale assenza di dialogo e coinvolgimento da parte dell'amministrazione. Siamo fortemente amareggiati perché i cittadini hanno organizzato diverse serate informative e incontri invitandola a partecipare, ma purtroppo questi appuntamenti non hanno avuto il contributo della sua presenza. Inoltre i cittadini hanno presentato una petizione, non una semplice raccolta di firme, che avrebbe dovuto ricevere una risposta ufficiale entro il 16 ottobre 2022, ma purtroppo nessuna risposta è stata data. E sul danno economico di una cementificazione di San Lazzaro, i dati parlerebbero di 108 milioni di euro di perdita per la collettività da qui ai prossimi 50 anni. Essendo una lettera di inizio anno, immancabili sono gli auguri che per San Lazzaro vogliono dire trasparenza, partecipazione e veri progetti lungimiranti per il futuro, all'insegna del rispetto per tutti i cittadini, perché crediamo che il 2022 non lo sia stato. Voltiamo pagina adesso, ci spostiamo a Tezze sul Brenta, dove i vandali hanno colpito, qualcuno ha fatto scoppiare un petardo che ha devastato la statua di San Giuseppe con il bambinello di Belvedere. Cosa c'è di meglio dopo il cenone, dopo i bagordi, chiamiamoli così, dell'ultimo dell'anno, di una bella passeggiata nelle campagne del Bassanese? Ecco, qui si può fare una bella passeggiata, siamo fra Campagnari e Belvedere, siamo a Tezze sul Brenta, ma le persone che passano da queste parti hanno oggi una brutta sorpresa. Già, perché quello che c'era qui dentro adesso non c'è più. Questo è un capitello, un'edicola votiva nella quale c'erano un San Giuseppe con il bambinello. Ebbene, nella notte di Capodanno qualcuno ha pensato bene di fare esplodere le statue con un petardo e sono andate in mille pezzi. Un petardo posizionato nella parte alta della statua ha fatto saltare letteralmente tutta la struttura che è già stata portata via per essere restaurata. Qui ci sono però ancora i pezzi dei petardi, i pezzi di carta, quello che è stato utilizzato per fare questo danno. Noi ne siamo andati a parlare con il sindaco. Sentite cosa ci ha detto. Ho appreso la notizia con molta tristezza e con molto rammarico. Tutti gli atti vandalici che vengono commessi sul patrimonio comunale sono da condannare. Però in questo caso quando si interviene su delle edicole come questa, su dei capitelli di devozione popolare, lo sono ancora di più. Mi auguro che i trasgressori, coloro che hanno commesso questo atto vandalico, abbiano il coraggio di farsi vivi e di rimediare. Questo è l'invito del sindaco, vedremo se gli autori del gesto si faranno vivi. Nel frattempo qualcuno ha già messo questo cartello, c'è chi distrugge e c'è chi ricostruisce. Presto la statua ritornerà al suo posto. Questo è un messaggio sia per chi ha voluto fare questa bravata, sia per tutte le persone che passando di qui vogliono lasciare una preghiera, un pensiero al santo e al bambinello. Ancora vandali in azione, poco distante, sempre a Tezze sul Brenta, dove il tavolino di un locale è stato fatto esplodere. Botti e vandali vanno spesso a braccetto e nella notte dell'ultimo dell'anno, a Tezze questa regola è stata confermata anche dei danni causati alla trattoria Pizzeria da Nicola di Piazza 10 luglio 1809. I cui titolari si sono trovati con un tavolino letteralmente da buttare via. I soliti gnoti hanno infatti infilato un petardo fra la struttura in plastica e la copertura in vetro che è finita in mille pezzi. Il locale è ora chiuso per ferie, ma la notizia dell'atto vandalico è rimbalzata pure sui social e si è diffusa in tutta la zona, suscitando parecchia rabbia. E adesso vi invitiamo con il nostro cartello a segnalarci eventuali scene di degrado nel vostro comune, scritte sui muri, atti vandalici, gesti di inciviltà. Noi chiaramente ascolteremo la vostra voce, le vostre segnalazioni e ci occuperemo dei singoli casi. Andiamo avanti adesso, andiamo avanti con il nostro giornale, ci spostiamo a Bassano, una mostra inaccessibile per chi si trova costretto su una sedia a rotelle. Un nostro telespettatore molto arrabbiato ha chiamato Rete Veneta. E adesso? Adesso o allora o succede il miracolo che qualcuno arriva oppure non so. Ingresso libero ma non per tutti, non per chi si trova costretto su una sedia a rotelle come il nostro telespettatore, il blogger bassanese Luca Faccio, che aveva deciso di andare a vedere la mostra allestita a Palazzo Buonaguro sui falsi d'autore. Mi sono informato presso il museo civico di cui il Palazzo Buonaguro è sotto loro cura, mi hanno detto che di solito è su appuntamento e praticamente bisogna... E oggi l'ascensore era rotto e non si poteva accedere. Voi dovete prendere appuntamento per cosa? Per poter entrare e visitare una mostra, ma se voi notate all'ingresso del palazzo c'è scritto mostra ingresso libero. Vorrei vedere se un turista viene, non c'è nessun numero informativo che indica dove chiamare, vorrei vedere come fa. E a proposito di ascensore Guasto... Beh, non sembra proprio Guasto. Si dice che i disabili fanno fatica ad uscire e devono socializzare. Io vorrei vedere quando una città è piena di barriere chitettoniche, non c'è un bagno pubblico dove la persona può accedere e le mostre non sono accessibili. Un disabile cosa riesce a fare? Si incazza ogni giorno. E lancia una richiesta ben precisa. Quello che chiedo nuovamente è una risposta civile e scritta da parte di Zaia, Lanzaric e la sindaca Pran. Su sta roba qua non intercedo una virgola. E adesso una notizia di poco fa. A partire da oggi lascio l'Università di Padova. Questo l'annuncio del senatore Andrea Crisanti, che all'Ateneo Padovano ricopriva il ruolo di docente ordinario di microbiologia. La decisione, ha detto Crisanti, è legata all'indagine sui tamponi rapidi della Procura di Padova e alla diffusione di alcune intercettazioni telefoniche che lo riguardano. Senza voler entrare nel merito, Crisanti ha aggiunto di voler essere libero di prendere ogni decisione che mi riguarda, ha detto il senatore, visto che vi sono molte intercettazioni che riguardano anche altri docenti dell'Università. Mi concentrerò con l'impegno politico, ha continuato Crisanti, e valuterò se ci saranno opportunità di collaborazione di volta in volta. Motivi di contrasto che voglio evitare, proprio come quelli originati quando Crisanti scelse di rinunciare allo stipendio da senatore. Ricordiamo che era stato eretto con oltre 33 mila voti, capolista per il Partito Democratico nella circoscrizione estero, per ricevere solo lo stipendio di professore ordinario dipendente dall'azienda ospedaliera di Padova e dall'Università. Ebbene, una scelta questa che non ha trovato però il benestare proprio dell'azienda ospedaliera, nei confronti della quale il professore era in aspettativa come direttore del Dipartimento di Microbiologia. Noi adesso voltiamo decisamente pagina e parliamo dei primi nati nel nuovo anno. Sono tre maschietti quelli che hanno, diciamo, fatto sorridere i loro genitori per primi nell'Ulse 7. Leonardo è l'ultimo nato a Bassano del 2022 nel primissimo pomeriggio del 31 dicembre. Un maschietto chiude l'anno e altri tre aprono quello nuovo nel territorio dell'Ulse 7 pedemontana. Il piccolo Amos è il primo nato della provincia di Vicenza nel 2023, venuto al mondo alle 2 del 1 gennaio al San Bassiano. Alle 10.23 a Sant'Orse è arrivato Elia, mentre alle 16.07 al nosocomio di Asiago il primo vagito del 2023 è quello di Edoardo. Un anno, quello appena finito, che ha registrato un numero crescente di nascite rispetto a quello precedente. 530 maschi, 517 femmine, come conferma il primario di ostetricia e ginecologia del San Bassiano, Roberto Rulli. Ci sono stati 1.032 parti, per un totale di 1.047 nati, di cui 15 gemmellari. Rispetto all'anno precedente? Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un lievissimo aumento, in quanto l'anno scorso c'erano stati 1.010 parti. Questa è una cosa non da poco, in quanto c'è stata una denatalità importante, stimabile a livello regionale, ancora non abbiamo i dati, tra il 5 e il 6%, e quindi avere avuto questo lieve incremento denota non tanto che nel Bassanese ci sono stati più nati rispetto all'anno scorso o più nati rispetto alla provincia, bensì c'è stata una diminuzione probabilmente della mobilità passiva, cioè dei bassanesi che andavano precedentemente a partorire in altri punti nascita. Oggi è lunedì, ma tanta gente ha deciso lo stesso, di fare visita a Bassano e al suo storico ponte. Lunedì 2 gennaio e Bassano è presa d'assalto da tanti turisti che hanno approfittato di questi giorni di festa per visitare la città ai pieri del grappa, a cominciare dalla tappa d'obbligo, lo storico ponte vecchio, monumento nazionale. La prima tappa è il ponte. È molto carino. Molto bello questo posto, sì. Siamo in compagnia di amici. Siamo venuti a portare i nostri amici sardi a vedere il ponte di Bassano. Meraviglioso. Bel posto. È la prima volta che venite qua? Vabbè a Villarba siamo venuti altre volte, però qui a Bassano del Grappa è la prima volta, è una bella esperienza, un bel posto. Poi tappa rigorosamente sul ponte. Sì, la prima tappa l'abbiamo fatta qui. Intanto era dove arrivati? Montenegro. Come vi sembra? Molto carino, molto carino. Siamo a Vicenza, degli amici e adesso abbiamo visto che è vicino, abbiamo deciso di fare la gita. E ovviamente cosa avete preso? Il mezzo e mezzo? Ah, lui l'ha preso, mezzo e mezzo, sì. Molto buono. Siamo qui per la storia, questi luoghi pieni di fascino, il ponte. Questo ponte, come ti piace? Lo amico, lo amico, lo amico molto. È la prima volta qui a Bassano. Sì, è la mia prima volta. Sul ponte di Bassano. Sul ponte di Bassano ci darei la mano, ma anche un bacio. E allora noi adesso continuiamo con una problematica che riguarda tutto il nostro territorio, la difesa delle eccellenze venete contro il cibo sintetico. In prima linea in questa battaglia, il consigliere regionale Gio Formaggio. Carne sintetica, pesce in provetta e cibo costruiti in laboratorio bussano alle porte dell'Europa. E proprio dal portone spalancato dall'Unione Europea, che sull'argomento traccheggia pericolosamente, potrebbero arrivare anche nel bel paese. Alla faccia del Made in Veneto e delle eccellenze della nostra regione, il rischio è di trovarsi sul piatto e nel bicchiere una concorrenza molto scomoda. Ma c'è chi mette subito in chiaro le cose, mettendo appunto i puntini sulle I di identità e indipendenza alimentare. Signori, questo è quello che sappiamo fare, questo è quello che mangiamo, questo è quello a cui siamo abituati. Il cibo sintetico se lo possono mangiare gli altri. Non ci interessa se lo fanno, però non ci devono rompere le scatole se noi vogliamo continuare con le nostre tradizioni, con i nostri cibi e con quello che sappiamo fare e con quello che siamo. La battaglia che segnerà il 2023 è quindi quella legata al cibo, in un periodo in cui dall'Europa non sempre arrivano buone notizie per le eccellenze venete. Parte la battaglia al cibo sintetico. Allora non ci interessa niente se l'Europa vuole andare verso i cibi prodotti in laboratorio. Noi siamo vicentini, siamo veneti, siamo italiani. L'Italia è il leader mondiale per l'eccellenza enogastronomica. Noi vogliamo cucinare la nostra carne, preparare le nostre verdure, abbiamo bisogno di prodotti tipici, i nostri formaggi, le nostre carni. Tutto parte da qui la battaglia, non siamo gente che pubblica in Facebook tanto per farci vedere. Questo è il nostro lavoro, questo è quello che ci piace, questo è quello che ci invidia il mondo. E adesso alcune brevi notizie dal territorio. Il soccorso alpino della Pedemontara del Grappa ha tratto in salvo due piloti di parapendio decollati nonostante consistenti nubi basse, rimasti sospesi tra gli alberi non appena entrati nella nebbia. Impegnativo il loro recupero per scarsa visibilità. È dedicata al comune di Tiena la tesi di laurea dal titolo Qualità della vita lavorativa e pubblica amministrazione che la neodottoressa Elena Veronese ha discusso all'Ateneo di Verona dopo un periodo di tirocinio nel palazzo municipale. Grande attesa colceresa per l'arrivo in piazza degli Alpini della Befana in programma il prossimo 6 gennaio in località Molvena. L'appuntamento è organizzato dalla Proloco e il ricavato andrà a sostegno della Scuola dell'Infanzia Paolo VI. E sono stati fissati per mercoledì alle 15 al Duomo di San Martino di Lupari i funerali di Maria Angela Sarto. In quell'occasione sarà anche lutto cittadino. Manca solo l'ultima certificazione, quella del medico, ma data e orario dei funerali di Maria Angela Sarto sono stati fissati. L'ultimo saluto all'anziana massacrata in casa insieme al marito, le cui condizioni invece migliorano di giorno in giorno, l'ospedale di Padova si terrà al Duomo di San Martino di Lupari mercoledì alle 15. A celebrare le esequie della donna che era amata e conosciuta in tutto il paese sarà Don Livio Buso, parroco a San Martino di Lupari. Nel giorno dei funerali il sindaco Nivo Fior ha già confermato che sarà indetto lutto cittadino, in segno di vicinanza ad una famiglia così ben voluta in paese la cui sorte ha sconvolto l'intera comunità. Abbasserete le serrande? Sicuramente sì, abbasseremo le serrande per rispetto al lutto cittadino. Andrò sì perché a me piace andare in segno che sono da San Martino. Quindi un segno di vicinanza anche se non la conosceva? Sì sì sì. Avevo sempre qui al bar oppure in negozio qua dai tabacchi. Conta di venire al funerale mercoledì? Sì, salto. Una tragedia che ha toccato tutta la comunità? Sì, salto. Perché erano due persone buone e gentili, capisci? Una brava persona, gentile, educata, calma. Il marito è 40 anni, 50, che ci conosciamo. Veramente non faccio una colpa neanche alla figlia perché sono cose molto tragiche, molto brutte. Non stiamo neanche a motivare niente, pensiamo solo cosa poteva essere successo di continuo, senza far tante parole. Una comunità che mercoledì si stringerà attorno a Chiara, la figlia minore della coppia, la prima a scoprire in casa il corpo della madre morta di sanguata e a chiamare i soccorsi, riuscendo così a salvare il papà che giaceva a terra agonizzante. E adesso spazio ai vostri presepi. Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Belli andare col cavallo sulla neve bianca Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Scimolando con la pizza nel silenzio andiamo Nella notte samba, sole da lontano L'eco di campane, ding dong ding dong dam Canteremo insieme al fondo i campanelli Augurando a tutti un lieto e buon Natale Ging and bell, ging and bell, ging and bell all the way Con le brille tra le mani, tra gli avetti bianchi Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Sa cavallo dove andare lungo il posto in te Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Belli andare col cavallo sulla neve bianca Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Scimolando con la pizza nel silenzio andiamo Nella notte samba, sole da lontano L'eco di campane, ding dong ding dong dam Canteremo insieme al fondo i campanelli Augurando a tutti un lieto e buon Natale Ging and bell, ging and bell, ging and bell all the way Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Nella notte samba, sole da lontano L'eco di campane, ding dong ding dong dam Canteremo insieme al fondo i campanelli Augurando a tutti un lieto e buon Natale Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Con le vigne tra le mani, tra le arie di bianca Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Scalca a mano dove andare un po' sto sentchè Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Belli andare col cavallo sulla neve bianca Ging and bell, ging and bell, ging and all the way Con queste immagini si chiude questa edizione di TG Bassano. Vi ricordo alle 21.15 il nostro Focus. I ospiti di questa sera saranno Sonia Brescacin, Tania Busetto, Lucrezia Favaro, Annalisa Nalin, Valentina Pilon, Rosa Poloni e Simonetta Rubinato. È davvero tutto, io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi auguro buona serata.